Musica Nella suggestiva atmosfera delle cripte del Museo dell'Arte e della Scienza di Milano è stato presentato il film La Passione di Andrea Forte Calatti, regista nato a Milano ma originario di Lucera. 35 minuti di pellicola danzata grazie al ballerino siciliano Antonino Sutera con le musiche del pugliese Gabriele Semeraro, un film ispirato dal cenacolo di Leonardo che verrà proiettato il 13 aprile allo spazio anteo della città lombarda e dove per l'occasione i ballerini creeranno la doppia emozione di uno spettacolo visivo ma anche dal vivo. Rispetto alla parte visiva, alla mia visione, sono veramente soddisfatto. Il direttore della fotografia poi ha interpretato i colori esattamente come li ho sentiti e questo mi ha fatto sentire veramente a casa, mi ha fatto sentire supportato. La passione in realtà l'ho voluta creare all'interno di un progetto più ampio che si chiama la doppia emozione. La doppia emozione è nella stessa sera quindi vedere il film e poi vedere 35 minuti di danza live con le stesse scenografie, la stessa musica e quindi lo spettatore può vivere una doppia emozione, può vivere e soprattutto creare questa differenza tra il vederlo filmato e il vederlo proprio live, dal visivo al cinestesico, il cervello crea delle cinestesie che si porta poi nel cuore quindi è qualcosa assolutamente, secondo me, che va visto.